Dal sopralluogo all'interno dell'impianto di stoccaggio di rifiuti del consorzio AM di Pineto, distrutto dalle fiamme nella tarda serata di martedì scorso, si conferma l'ipotesi di incendio doloso. Sul posto i tecnici dei vigili del fuoco, i carabinieri e il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, il magistrato che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Abbiamo visto il capannone, abbiamo fatto delle ipotesi, come si sia propagato. Certo, adesso è da vedere, stiamo facendo le indagini, vediamo se riusciamo a individuare anche i motivi di questo episodio, che è molto grave. Pensiamo che sia doloso, ma oggi siamo riusciti a capire qualcosa di più. Le circostanze, le modalità e i tempi che hanno caratterizzato l'incendio, infatti, lasciano pensare che non si sia trattato di un incidente. Quando alle 22 circa di martedì scorso è divampato l'incendio, l'impianto di stoccaggio dei rifiuti era chiuso e non vi erano dipendenti al lavoro. Circa mezz'ora prima è scattato l'allarme a segnalare la presenza di un intruso nell'area del consorzio, intruso che avrebbe appiccato il rogo all'interno del capannone che raccoglie rifiuti secchi, carta e plastica per poi fuggire. Un'area di circa 2000 metri quadrati è stata distrutta dalle fiamme che hanno raggiunto in altezza anche la copertura del tetto, facendone crollare buona parte. Il magistrato, durante il sopralluogo, ha ascoltato anche il presidente del consorzio, che nella tarda serata di martedì riceveva tramite sms sul cellulare l'allarme che segnalava un intruso nell'area dell'AM. Intanto l'amministrazione comunale di Pineto è in attesa per la giornata di domani dei risultati delle analisi da Arta e Asl per valutare gli effetti dell'incendio sull'ambiente.